dai Bora dai Bora dai Bora dai cazzo dai Bora dai Bora e dai si è visto anche abbastanza bene dai Bora vai Bora basta muovine chi ha detto basta muovine le coccole tipole per il bora dai vai cazzo vai bora ma è sempre lui ma è sempre l'otto vabbè che ho visto l'otto tutto Maso Dai che schizza la palla Markman tira in porta Maso dai Tira in porta che la palla schizza Dai eh Maso Che ansia Ho iniziato da 25 minuti Merda Un metro e mezzo Più avanti Non ho più più avanti Ma no ma vedi come schizza Se era un metro e mezzo Pino qua Diventa pericolosissimo Perché schizza Prende la velocità dell'analogio Ma che mangi schiena Ha preso un pugno in faccia Una gomitata A cadere è un gomitato Un ginocchio Si si qualcosa Non si che ha fatto Amoreno Amoreno Sa beh Guarda dopo c'è un 50 minuti di recupero Non prende la scuola Non prende la scuola Non prende la scuola Non prende Ma che è che sbrai Che è giusto lì C'è giusto lì Dai 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 E dalla Con la palla lì Ma chi è che sbrai Ma chi è che sbrai Una donna Ma cos'è? Io ero in classe con me, lui si chiama Eric Turra Chiara amica tanto mornata Cosa lo sai che cognome? Non lo so Ma cos'è che fa chiesto? E' il mio ombrello, trattalo bene Non ho paura anche io E' stimolato C'è l'hai messa te lì? C'è Eric Pasini, cazzo no Pasini si, figa la montagna Stato l'azzo a Isola sta Ah quanto si? Prima di Renoli? Sì Bene caro! Francesca ti parla? Mi finisce più? No, troppo no Non lamentarti che ho fatto per anni Per anni Per anni Quante volte l'hai fatto scusa? Per anni Due E dai il cambio alla paura Ormai stanno finendo anche Sì quanto siamo? 27 minuti Teniamo duro ragazzi Teniamo duro Proprio l'uno ha tenuto da Oh dai Oh dai Grazie Tuttavia Non si... Ti logna razza tranquilli لا Dai ragazzi! Ste ne te duroo Sici da qua sono abito lo mettiamo qua Ma senti da là di recupero Magisto dice delle cose Si ma basta muine Strega comanda colore Si è visto benissimo Ma è da solo? Ma ecco Merda dai Oh Dio mamma Stai lì vedo stai lì Quattro minuti quant'è? 29 quindi 5 Non l'ho stupato neanche una volta quindi si C'è ancora la nebbia Prima nel primo tempo c'era la nebbia che non vedevi Tra un po' non vedevi neanche metà Vai Bora Chiudila Dai 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 cazzo Sì Vai Bora E vai Bora Che buona Che buona Stigati 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 che devi chiamare anche quelle categorie per questo Ma chi è questo? Ah è il mio avviso Mi apri? Ora Tutti in bacucca Due ne ha fatti allora Tutti e due Ora Ora Sbaglio Ma tu non l'hai sbagliata Sbaglio Dio Sbaglio Concentrate Eh Vieni Dai che manca poco Non mollate la presa, che se no. No, non si vede più niente adesso. E' bella finita. Cos'è? Un minuto? 31. Ha dato 4 minuti. 3, quindi. Prima del gol. Infatti... Finita, finita. Che tattico volante. La super palla di gisto, eh. Super astro. Di esterno. Eh, non si vede niente. Dove mi dà la palla? Merda. Ha fatto il tempo per fare il gol. L'ho preso tutto, l'ho preso il gol. E se la sospendo mi sono ripartito. Eh sì. Se non hanno sospeso quando diluviava prima. Prima che iniziasse, sì, è iniziato a diluviare. Sì? Sì, è smesso. Però, eh. Che mostro più? Che mostro più? E non si vede un'h. È là. Finita, mancano 30 secondi. 32 mi segna. Come due minuti? Ti prego, falla finire. Mi bruciano le mani. Ecco che lo faccio. E' neanche appena iniziata. Ecco, l'ho preso, l'ho preso. Concentrati, come due minuti? L'altro si vede niente. E' nemmeno stai. ma poi si fa anche io ma poi si fa anche io ah si qua non si vede io non la vedo la palla ma poi non si vede anche da qua finita arbitro no magari è scisa vabbè si si mongolo vado 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 ma cosa si c'è? non si vede le wow wow